Simone Rizzato sarà costretto a saltare anche la sfida di domani contro il Parma. Il terzino dell'Avellino si è allenato in modo differenziato per superare i problemi fisici che lo hanno costretto a dare forfait anche contro la Pro Vercelli, in settimana. Al suo posto Walter Novellino potrebbe dare una chance a Falasco riportando un gava sulla fascia destra.